Questa giornata è una giornata veramente particolare, aver fatto un corso tutto in remoto attraverso webinar, sì la tecnologia ci ha aiutato tantissimo e abbiamo potuto fare questo corso, però finalmente questo giorno incontrarci tutti insieme, vedere i discenti, vedere l'entusiasmo, sentirlo è stata veramente una grandissima gioia, una gioia per me ma per tutta l'equip di Accademia del paziente esperto eupati, felice di aver visto il risultato di questo corso, l'entusiasmo dei discenti e la voglia di continuare, la voglia di partecipazione, anche la voglia di continuare a collaborare con tutti i pazienti esperti da parte delle istituzioni, da parte di AIFA, di Farmindustria, da parte del Comitato Nazionale per i Comitati Etici, tutti hanno aperto, compreso l'Istituto Superiore di Sanità con la dottoressa Tarusha che ha lasciato un bellissimo messaggio e anche del Presidente del Clinical Trial Center del Gemelli e il Professor Rasi, hanno tutti manifestato il desiderio di continuare a promuovere la figura del paziente esperto eupati e di coinvolgerlo in tutti i tavoli istituzionali e laddove la parola del paziente è fondamentale. Questo è un giorno che conclude un corso ma inizia il percorso per tutti e ne sono profondamente felice.